sono provisti di quei presidi di sicurezza individuale che consentono di agire in totale sicurezza dal punto di vista del rischio di contagio e quindi vengono attivate dal medico di medicina generale nel momento in cui un suo paziente comincia a presentare una sintomatologia covid riconducibile e che può essere tra coloro i quali rientrare in un protocollo di trattamento precoce farmacologico, allora l'USCA viene da noi attivata, si reca a domicilio del paziente, viene visitato il paziente, viene sottoposto al tampone, viene fatto un elettrocardiogramma, dopodiché loro consegnano i farmaci della sperimentazione terapeutica e un saturimetro che servirà per il controllo quotidiano della saturazione di ossigeno che è uno degli indici più importanti da seguire e quindi ci sarà un monitoraggio quotidiano dove il paziente sarà chiamato quotidianamente e ci dovrà dare i suoi parametri principali che sono la temperatura, la pressione arteriosa che può essere misurata con questi apparecchi che vanno in automatico e la saturazione dell'ossigeno che loro dovranno eseguire in condizioni basali a riposo e poi facendo un minimo di attività fisica a 6 minuti anche di camminata veloce dentro casa. Secondo le previsioni nella prima settimana di trattamento e di monitoraggio dovrebbero cominciare a regredire questi sintomi. Riusciamo a cogliere degli aspetti iniziali di complicanza, questo monitoraggio ci consentirà di attivare immediatamente un ricovero e quindi passare a una seconda fase di trattamento che magari potrà prevedere anche l'uso dell'eparina a basso peso molecolare.